E ragazzi io sono Feriniki e io sono Stef e quest'oggi torniamo su Baldi's Basics e devo dire che ho capito che non sarà semplice finire il gioco Esatto, stiamo facendo subito il secondo episodio perché abbiamo detto no, lo vogliamo finire, dobbiamo essere bravi e forti Al primo non sapevo cosa aspettarmi, ho capito che è un gioco strano, adesso ho anche capito che è un gioco difficile e dobbiamo affrontare tutti questi problemi in una volta sola Esatto Vabbè, direi di andare Allora, secondo me i punti fondamentali per riuscire a finire questo gioco sono l'utilizzo degli oggetti Esatto Se noi riusciamo a sfruttare bene gli oggetti ce la possiamo fare, altrimenti no Esatto, anche perché avevamo trovato la soda, ti ricordi la soda che secondo me lo rallenta o comunque lo allontana Mi ho dimenticato che la prima puoi non sbagliare, quindi siamo stupiti Sì, perché facciamo un raggio strano la soda, dobbiamo provare a tirarla addosso Esatto, dobbiamo provare Comunque ho scoperto anche come si ricarica l'energia, ovvero stando completamente fermi E ogni volta che noi decidiamo di usare una cosa come la soda abbiamo la detention problem Ovvero il tipo che viene a dirci, no non dovevi E perdi Esatto Ok, questa volta lo so Secondo me esiste la risposta giusta Secondo me no Dici no? Com'è c'è? Secondo me non c'è Com'è c'è? Oh se c'è se sei un genio, porca miseria se sei un genio Lo so, ma lui è un genio Oppure tanto fortunato, una delle due Ok Dov'è? Sembra lì Era lì Allora, per ora siamo rilassati e io sfrutterei questa cosa, la gioco in modo strategico Per accogliere oggetti Sono d'accordo Più oggetti ci prendiamo adesso, meglio è Ok Quello è un telefono Che cos'è? Un cellulare? Un occhia Ma che è quella roba? Quelli indistruttibili Eh sì Quindi accumuliamo gli oggetti e poi iniziamo a leggere le note Perché finché siamo a due Alle spalle ci ha preso Uno Two Three Four Five Maledetto Tipo, se tu usi la monetina qua Come pensavo? Ci dà la soda, ottimo Quindi neanche la monetina la possiamo sfruttare Esatto Vabbè adesso è lento e non penso ci sia troppo bisogno No per niente Però quando sarà più veloce Esatto Lì sì che ne hai bisogno Allora, iniziamo a fare un altro perché tanto dovrebbe andare comunque bene la velocità Allora, sei meno cinque, uno Sei Cavolo Non funziona Funzionava mettere tutti i numeri così Mi dispiace Potrebbe essere una bella opzione, peccato Mi dispiace Quindi così credo che siamo a velocità massima prima di avere problemi Adesso andiamo a cercare altri oggetti utili No, ci abbiamo dietro Maledetto Dai no Posso guardarmi dietro premendo spazio Lo so, lo so, lo so Avevo letto i tasti del gioco Quindi siamo tranquilli Ma ti ho detto finché non prendiamo troppo Non è un grosso problema Ma io non ho fatto nulla Abbiamo schivato Non abbiamo fatto niente Che fatti? Vabbè abbiamo saltato Tecnicamente non si dovrebbe saltare Veloce Veloce That's great Allora qua ce n'è uno Lì ce n'era un altro E siamo a cinque Qui noi possiamo comunque entrare Giusto? Per regolamento Penso di sì Dice di non mangiare Di non bere Ok Ci prendiamo la seconda soda Che sono già tante due Troviamo almeno un'altra porta Quindi arriviamo a saperne tre Ok E secondo me a quel punto possiamo tentarcela Che dici? Guarda che vicino è Tranquilla Bisogna trovare il coraggio Fede Se tu non trovi il coraggio Sei troppo rilassato È quello che sto pensando io Che sei troppo rilassato Ma guarda sto guardando dietro adesso Vedi Ma guardate che davanti Che poi ci appaiono cose Sì Ok Qui ci sono altre stanze Questo lo prenderei adesso Sì vai Ok E 8-6 Ma chi è che sta urlando? No non la tiro Rischio Ok Dai sicuro? Sì È il quinto porca miseria Steph Lo so Però è la partita perfetta Bisogna giocarle così fare Ok Non avevi scritto nulla però Lo so perché ho usato le lettere Non puoi scrivere lettere Lo so Ok Allora devo dribblarlo Ok Sento le urla tranquilla Condivido il dolore insieme a te Ok Cavolo Te l'avevo detto È veloce Allontanalo Avevamo due soda Perché sprecarle Steph? Perché? Perché è così che si gioca Fare me la Ho capito Ho capito tanto Ho capito tanto Ok Però secondo me L'aver trovato quelle due stanze Era importante E forse non l'avrei dovuto sprecare È odiosa sta roba È davvero odiosa Wow Wow That's nice That's great Wow Vai via basta Ti vogliamo più vedere Qui ce n'è uno Ok Ricordiamocelo Però non abbiamo neanche uno di soda No Vai via Non tornare indietro Maledetto Ok Ok Non ci ha visto dietro il cespuglio Chiaramente non ci ha visto dietro il cespuglio Che si potrà fare col cellulare? Altro libro? Non ho idea Però Soda Chiedeva 25 centesimi Ho letto bene? Eh Non mi ricordo No 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 Non vai Te ne vai Ciao Bullo Siamo fregati È molto vicino Corri Maledetto Ho corso e ci ha visto Non siamo veramente brutte persone Il prof è una brutta persona Mettete in punizione il professore Ah, ci ha sequestrato pure la soda Bene Che bella vita Ma sto gestendo, hai visto? Ma sti sincastrato, devi uscire fuori Non è andata, non è andata Ok, eccolo là La loce Dai, lo reggiamo così Non troppo Io non ho capito chi è che urla Così quando va in queste zone Ma Quello non era attivo prima No Dai, va tutti dietro l'angolo Tutti assieme Wow That's great È il più odioso È il più odioso È il più odioso È il più odioso Tutte queste voci sono odiose Ciao Io l'ho vista muoversi Anche io Io l'ho vista muoversi, ve lo giuro Ok Ok La cassetta è qua comunque Ok Secondo me Sì Vero? Sì, 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 la vedi? No Non era quella? No, no, non è quella E dove cavolo l'ho vista? È qui dentro La prendo Boh, non lo so La vedi? Ah no, qua sono le chiavi E ne un'altra ancora E chissà dove Dovremmo provare a fare qualche Quella calza è un po' inchietante Una qua e una là Ci vuole davvero una pazienza incredibile Per sopportarlo, eh Uno Otto Non ce la faremo mai No Non ce la faremo mai È troppo difficile Quando ci hai preso? Ma quando? Dai Via, 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 via Professore Professore ci lasci Destro e sinistra È importante vedere anche quello Sinistra Non ce la facciamo Ah Non è possibile Non è possibile 5 di 7 C'è stata rubata una soda dal bullo Però secondo me L'altra soda è il momento giusto Di utilizzarla Perché qua Possiamo allontanare malamente il professore Guadagnare un botto di tempo Eh sì E sperare di trovare Le ultime due note Ovviamente lo faccio avvicinare Al massimo Ok Corri, corri, corri Cioè non corri Però vai Ok Qua è il posto dove si pulisce Vero? Sì Io non ricordo più che stanze ci mancano Tranquillo Le avevo fatte troppe No, queste sono quelle dell'inizio Sì Ok Dobbiamo sperare di non trovare quello della punizione Adesso sarebbe problematico Anche lei non è che sia proprio il top Eh? Anche lei non è il top raga Vai via Uno Due Tre Ti odio Quattro Ti odio Cinque Ti odio That's great A te non assordano Steph Cioè io probabilmente finirò sti video che non sento più No Vedi la calza che ogni volta scappa Io non ho capito che serve Vedi? Scappa No, dai E però E però Cavolo il professore l'abbiamo allontanato anche per tantissimo Quindi quella è la tattica giusta però Quella è la tattica giusta Eccolo Eh, tre meno due Uno Eh, meno due Siamo a sei Sei di sette raga Sei di sette Non posso fare di meglio No, sì che puoi fare sette di sette Steph No Cavolo sei veloce E credo sia più veloce di noi che camminiamo Vero? Porca miseria Il ritmo è altissimo Lo so Del rumore che fa È più veloce di noi Guardalo, 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 sì Dici? Non lo so Calzina Quella volta Però c'è passata in mezzo stavolta Hai visto? Che ansia Cavolo avessi avuto l'altra sola Non ce l'avessi rubata Ci sta raggiungendo, no? Sì Sì E qua non c'è nulla Bullo lo puoi bloccare? Ma andiamo più lenti Tranquilla Ma tanto ci prende, capito? Dai, perché c'hai Perché ci ha bloccato? Però non ce l'aveva mai bloccato Non so Perché? Perché forse ne avevamo nulla da dargli Capito? Sì, infatti mi diceva No item No item Sì, ma non mi devi bloccare Che senso ha? A 6 di 7? No Dov'è il prof? Perché l'ho seminato? Come ho fatto a seminarlo? Non lo so, non lo sento più Mi sembra che la mensa Dia vantaggio Magari si perde dentro la mensa Non lo so Però io non lo sento più, eh Sento altri suoni Ma non mi sembra lui Vabbè Mi odi però Io? Come? Farmi sentire sto maledattore Le cuffie così tante volte Lo vorrei uccidere È insopportabile Poi non sta zitto niente Basta Ecco lo risento il professore Dove può essere l'ultima? Non lo so Cioè mi sembra tutto uguale Non lo so Ci siamo persi Ci siamo persi totalmente Qua non è Poi trova sempre gli stessi Posti È nel mid Ma perdono le speranze È nel mid Sì, sì, sì Quasi sicuro 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sì, ne manca una di queste due Del mid O questa O è l'altra Ciao calzino Un po' di cosa Ma posso permettere Non mi hai visto Non mi hai visto Il professore è lì Eccolo Eccolo Ma è velocissimo Ma è velocissimo Devo soltanto non sbagliare la strada Ti capisco ste Ti capisco Quella che fa saltare In questo momento Quella che fa saltare In questo momento Uscivo da lì Mi allontanavo un attimo Ritrovavo quel corridoio Tiravo una soda Lui veniva allontanato Di 352 metri Prendevo la settima Avevo finito Questo cavolo di gioco E invece Quella che salta Basta Mi dispiace Mi arrendo Lo so Volevate vederlo finito Non ce l'ho fatta Colpa mia Però Ti capisco ste Non ce la potevo fare Qua sotto altri video Vorrei dire Migliori di questi Ma ormai vengo torturato In qualunque gioco Sembra che quello sia Il nostro canale Il Tortura stef Speriamo comunque Che il video vi sia piaciuto Nel caso iscrivetevi Cliccate la campanellina E ci fermiamo così Ciao ciao Ciao